Il mio studio ha valutato il fatto che una persona quando va anche in vacanza e vuole essere un ospite, vuole essere anche coccolato, vuole come trovarsi a casa sua. Quindi abbiamo pensato di realizzare degli spazi che potessero accogliere l'ospite a 360 gradi, con una stanza da letto dove potersi rilassare, stendersi in una vasca da bagno, avere tutti i servizi che anche a casa propria potrebbe avere. Una stanza più propensa al relax, con una sauna, dei lettini dove potersi rilassare con un accappatoio e leggere un libro. E una stanza più piccola, più intima, dedicata a un cigar lounge o a una sala lettura, dove raccogliersi intimamente con un libro, con della musica, accanto ad un camino, e ritrovare la serenità e il relax che magari a casa propria potrebbe avere.